Il sindacato dei medici di medicina generale lancia l'allarme, mancano i medici, soprattutto in provincia. Chi va in pensione non viene sostituito, i giovani non vogliono andare nelle periferie e il ruolo del medico di famiglia diventa sempre meno appetibile per il fatto di essere pieno di impegni gravosi, anche amministrativi. Abbiamo avvicinato il presidente del sindacato, il dottor Grisillo. Ci sono sostanzialmente meno medici di quelli che servirebbero e sempre di più vanno deserti quelle che sono le zone carenti, cioè le offerte di convenzione e vanno deserti prevalentemente nelle zone periferiche, nelle zone disagiate, nelle zone montane. Ancora sentiamo meno questo effetto nella città comarezzo. Quello della carenza dei medici è un problema che si presenta da anni e che il periodo pandemico ha acuito. La causa principale è una errata programmazione nazionale negli diversi anni antecedenti a questo, nel senso che non è stato tenuto conto di quanti medici sarebbero andati in pensione per compimento dell'età e quindi non sono state messe a disposizione sufficienti borse del corso triennale di formazione, che è la qualifica che serve per poi poter prendere la convenzione in medicina generale. Ora c'è un'accelerazione legata al fatto che alcuni medici, specialmente quelli che lavorano, sono costretti a lavorare da soli e che quindi subiscono tutto l'aumento di carico di lavoro, che è prevalentemente burocratico, un sacco di telefonate e di altre incombenze, non ce la fanno e quindi se sono vicini alla pensione anticipano il pensionamento. Infine il fatto che molti colleghi giovani sono attratti da fare attività di urne tipo per esempio le USCA, alternative a per esempio fare turni in continuità assistenziale o addirittura prendere la convenzione perché con pochi turni al mese guadagnano quanto guadagnerebbero con un mese di lavoro in medicina generale. I compiti e le responsabilità a tutti i livelli del medico di medicina generale sono sempre più pesanti. I medici di famiglia sono diventati dei veri e propri amministratori, oltre che dei clinici. C'è un eccesso di visite, c'è di richieste, di telefonate che vengono fatte al medico per qualunque tipo di problema, anche molto banali che in condizioni ordinarie nessuno avrebbe mai pensato di telefonare al dottore. Anche perché poi il numero dei pazienti è sempre più alto, si parla di oltre 1500 per ogni medico. La soluzione, quella immediata per non lasciare alcuni cittadini senza medico, è quella di aumentare il numero di pazienti in carico ai medici che rimangono. Come soluzioni tampone in un periodo limitato di tempo, aspettando che questi colleghi, che comunque per entrare a lavorare devono fare un triennio di formazione, c'è senz'altro il fatto di dare le risorse ai medici perché ciascun medico di medicina generale possa avere un collaboratore, un infermiere e quindi avere un'organizzazione del lavoro che almeno in parte gli scarica il carico burocratico. Favorire il fatto che i medici vadano a lavorare insieme, perché anche in questo caso nelle forme associative, le medicine di gruppo, le case della salute, ovviamente l'organizzazione consente ai medici di lavorare meglio. Ridurre forse le alternative di lavoro che vengono offerte ai giovani colleghi o almeno rendere, se non obbligatoria, altamente consigliato il fatto che se uno fa dei turni USCA faccia anche dei turni di continuità assistenziale. Un'ultima cosa per tentare di rendere più appetibile il lavoro nelle periferie è quello che le comunità locali, quindi i sindaci, individuino magari delle soluzioni di alloggio, di ambulatorio, eccetera, da mettere a disposizione dei medici.